E che suonate facevate a corda? Che scale erano? Come erano queste scale? Di solito si facevamo le tre più grosse, appena finito l'ultima perché l'ultima, la più grossa, doveva essere l'ultimo polpo. Dopo margine le volte si partiva subito con la prima. Facciamo le tre o due volte le quattro grosse. E poi chiamavano subito le piccole e le piccole andavano a scala. E dopo magari ci facevano un momento tutti assieme. Un giro dopo il maestro diceva state attenti che facciamo due giri completi. E dopo le bloccate subito. E nel volo mi andavo su a suonare io a martello così a Vanghera. Per l'altro eravamo magari in due o tre. Loro lasciavamo libero all'ottava. Facciamo un giro all'ottava. Si, si fermava un momentino. Mi fermava un momentino suonare a martello e si sentiva solo il suono dell'ottava. Magari due o quattro volte. Due o quattro tuoni suonare. Si, si, si. E allora subito mi prendevo. E allora subito mi prendevo. E allora subito mi prendevo.